Allora, le ultime verso Inter-Getafe. La partita sarà una gara secca, valevole per l'accesso ai quarti di finale di Europa League. Metterà di fronte l'Inter di Antonio Conte e il Getafe di Pepe Bordalas, squadra spagnola, squadra molto ostica da affrontare. La gara si svolgerà domani alle ore 21 a Gelsenkirchen e, come dicevo poco fa, sarà una gara secca. Quindi chi vince passa il turno. Il Getafe è, come dicevo, una squadra molto rognosa, una squadra che fa della lotta, del contatto fisico e anche, diciamo così, del gioco sporco, le sue armi migliori. Quindi non sarà assolutamente facile averne la meglio e non sarà facile, ve lo dico, mantenere i nervi saldi. Perché l'abbiamo visto anche nella gara che lo stesso Getafe ha tenuto contro l'Ajax, ancora prima dello stop del calcio per il lockdown. Una squadra veramente rognosa che fa saltare i nervi molto facilmente alle avversarie, quindi non sarà semplice averne la meglio e andare a vincere. Vi mostro adesso le probabili formazioni della gara perché ci sono delle novità rispetto a quelle che erano le notizie fino a, sostanzialmente, qualche ora fa. Quindi vado a condividervi lo schermo per mostrarvi anche graficamente le formazioni ufficiali e le formazioni probabili, chiedo scusa. Eccole qui. Allora, la prima novità la vedete già dal modulo. L'Inter nelle ultime ore viene dato in vantaggio il 3-5-2 rispetto al 3-4-1-2. Il 3-4-1-2 è un modulo che Conte ha utilizzato quasi sempre nel post-lockdown, tranne contro l'Atalanta, dove invece ha proposto un 3-5-2 e bisogna dire che l'Inter comunque ha fatto un'ottima partita. E mi viene da pensare che l'eventuale scelta del 3-5-2 per la gara contro il Getafe sia una scelta legata a delle certezze che probabilmente questo modulo, che è quello con il quale Conte ha lavorato fin dallo scorso agosto, può dare rispetto a un 3-4-1-2 che invece è un modulo un po' più nuovo, diciamo così. La probabile formazione la leggete. Quindi Andanovic in porta, Godin in vantaggio su Milan-Screener in difesa, al fianco di Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. Il centrocampo sarà a 5, quindi non comprenderà, almeno secondo le ultime notizie, Christian Eriksen, che partirà dalla panchina, e nemmeno Borca Valero, perché di fianco a Barella e Brozovic in mezzo al campo dovrebbe esserci ancora Roberto Gagliardini, autore comunque di una buona prova a Bergamo contro l'Atalanta. Sulle fasce Candreva Young titolari e in attacco la Lula, la coppia d'attacco titolare, Lukaku Lautaro-Martinez. Il Getafe invece si propone con il suo canonico 4-4-2, con Soria in porta, Damian Suarez, Genet-Exteita e Oliveira in difesa, Neom Arambarri, che è un altro nome che negli scorsi mesi era stato accostato all'Inter, Maximovic e Cucurella a centrocampo, e la coppia d'attacco anche qui abbastanza consolidata per Pepe Bortalas, Mata Molina. Importante in casa Inter è anche però da sottolineare il recupero di Stefano Sensi, perché dopo essere stato infortunato per diverso tempo, Stefano Sensi tornerà fra i disponibili per questa partita, non partirà a titolare perché ormai è fuori davvero troppo tempo e non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, però sarà a disposizione di mister Antonio Conte e potrà quindi eventualmente essere scelto a gara in corso per provare a cambiare la partita. Fateci sapere naturalmente nei commenti che se siete d'accordo con le scelte di Conte o eventualmente quali altre soluzioni avreste preso in vista della partita, iscrivetevi al nostro canale YouTube perché ragazzi lo diciamo sempre, stiamo notando che recentemente stiamo avendo un boom di visualizzazioni, di crescita sul nostro canale, di questo ne siamo molto contenti, ma tante visualizzazioni arrivano da persone non iscritte, quindi se vi interessano i nostri contenuti, se siete diciamo degli spettatori abituali del nostro canale, vi chiediamo appunto la cortesia di iscrivervi perché è un'operazione molto rapida e totalmente gratuita, ma che ci dà davvero una grande mano. Quindi appunto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguiteci naturalmente su tutte le nostre piattaforme di podcasting, ovvero Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.